In Nero, Matoš, Likowski, Matoš, Likowski, On-Run Rider, con il nero e ventinomensimo tempo di qualifica, ma si è difeso benissimo in giallo. In blu invece, scusate, Mario, Bux, Likowski, con il decimo tempo di qualifica in giallo, il servizio austriano, Alex Polin, era stato il video, il tempo di qualifica, Alex Polin, a Vancouver. La sua seconda vittore, il topo del mondo in carriera, Alberto Berdy, schiavone, schiavone in gru, Bux in blu, Polin in giallo, Likowski in blu. Ranisk, matoš, la sua seconda vittore, il topo del mondo in carriera, Alberto Berdy, schiavone, schiavone in gru, Bux in blu, Polin in giallo, Likowski in blu. Gličowski, Attenuš! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.